Si riunisce stasera il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono tre i punti all'ordine del giorno e due sono le proposte di deliberazione. Una riguarda l'adozione del catastro degli incendi boschivi, aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nel 2022 e un'altra l'approvazione del regolamento del mercato ortofrutticolo di Sant'Andrea. Sul punto si registra l'iniziativa del Movimento Città Aperta che da anni chiede che venga aperto il nuovo mercato ortofrutticolo, evidenziando come finora poco o nulla sia stato fatto. Per il resto i consiglieri Raffaella Campo, Antonio Mamì e Gabriele Sidoti hanno segnalato che il regolamento proposto dall'assessore Salvatore Coppolino non soddisfa i criteri minimi per poter garantire il buon funzionamento del mercato. Tra le tante ed evidenti mancanze e criticità segnalate dal Movimento, spicca quella sul direttore del mercato, cioè la figura chiave che garantisce il buon funzionamento del mercato stesso. Il regolamento non indica in modo esplicito funzioni e compiti del direttore, individuandolo nel dirigente del SUAP, una scelta che il Movimento considera fuori da ogni logica e da ogni possibile realizzazione concreta. Città Aperta auspica un confronto con i gruppi consigliari, gli operatori commerciali, i sindacati di categoria, la confagricoltura e con altri soggetti. Per questi motivi, già prima del confronto di Palazzo Longano, propone che l'esecutivo ritiri il provvedimento per ripresentarlo dopo aver valutato e superato le tante criticità esistenti. Riguardo invece ad interventi per il consolidamento del territorio, la protezione civile regionale deve procedere ai lavori urgenti per la mitigazione del rischio e sondazione del torrente Longano, per un importo che supera i 4 milioni di euro. Da qui, presentando apposito atto di interpello, firmato dal dirigente generale Salvatore Cocina, si è alla ricerca di due tecnici utili all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.